Eccoci arrivati al prossimo contesto Aspetta! Il primo round è finito 240-190 per Marco Quindi ora Ciao Carla, sei arrivata ora? Carla, arrivi Aspetta! I concorrenti Marco fa un saluto Rosario il rappresentante Pietro un saluto Mi chiede la concentrazione di Pietro Vediamo pure che Aspetta! E poi Che cazzo è Marco? Chi è? 50-50 Marco Marco ha fatto 50 5-50 A chi tocca? Mi c'ha concentrato Vai 50 Quanta? 50 50 Quanta vari? 50 Ah cazzo non l'ho preso E' stato spostato 90 90 90 Si rispondono colpo su colpo No Ma la mozzicata me la può minare Scusate Andrà su Facebook Vabbè si taglia E' stato spostato E' stato spostato E' stato spostato E' stato spostato Pietro avanti di 70 punti al termine del terzo turno Marco Prima c'è Marco 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 E' stato spostato E' stato riuscito Tu devi fare una partita di Di chi? E' 80 90 90 di pi ... oh Compa, lo sai qua, 160 punti dietro Sì, compa, faccio gli altri E in effetti 95, compa È 100 È 100 Compa, ha preso la linea È 90 La linea è considerata Compa, la linea La linea non è perfetta No, no, è 100 È 100 Cioè, perché la linea è poco più schiacciata 90 di Pietro Cioè, com'è, con un 100 è regolato solo 10 punti Vai Vai, Pietro Minchia, Pietro è concentrato 90 90, guarda 70 La, là sopra, là sopra 70 Abbiamo una linea piccola Marco recupera solo 30 punti Dovrà recuperare 130 punti 130 130 nel round Chi è questo? È 90 Marco, Marco, 90 Vediamo un Pietro Ah, smetta Se tu fai 0 Se tu fai 0 Andate pari Perché lui è in vantaggio No, 50 punti No, 50 punti No, perché è postato No, no Michi, è Pietro Pietro che errore Il mio è in vantaggio Il mio è in vantaggio 100 190 Quelli sono 270 E quindi sono... 370 300 340 Quindi sono 180 È 100 180 No, 180 280 90, 180, 270, 370, 440, quindi sono 680, Marco ha 680, invece Pietro ha 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9 per 5, 450, 570. Oh, la bella, compa, aspetta, 680, Marco, e invece tu di più, 670, 760, 690 punti sopra, oh, c'è il terzo round, c'è la bella, aspetta. Ora, è tipo un rato, aspetta, con il prossimo contest.